Silvio Berlusconi di nuovo vincitore, eh sì, Silvio Berlusconi di nuovo vincitore, parola di filosofo un po' stoico, un po' cinico, ma veramente che Silvio Berlusconi sia di nuovo vincitore l'ha già scritto, l'ha già scritto Marco Travaglio, Marco Travaglio è uno che se ne intende, cari amici, se ne intende, Marco Travaglio è uscito di senno quando ha saputo della mossa di Silvio Berlusconi, la mossa di Silvio Berlusconi ha fatto nascere la coalizione governativa, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Marco Travaglio è uscito di senno perché Marco Travaglio ovviamente voleva una alleanza governativa, Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, PD, movimento pentastellato e il PD, il PD, perché ovviamente per Marco Travaglio il PD di Matteo Renzi è il male minore nei confronti del centro-destra di Matteo Salvini e di Silvio Berlusconi, perché voi lo sapete tutti, quello che Marco Travaglio, Silvio Berlusconi lo chiama il delinquente, il delinquente, dite voi ma Silvio Berlusconi non c'è più, si è tirato indietro, e no, Marco Travaglio queste cose le capisce bene, Marco Travaglio queste cose le capisce molto bene, quasi come me, le capisce quasi come me, quasi come Serafino Massoni, si chiama ritirata strategica quella di Silvio Berlusconi, capito? Ritirata strategica, ma non è vero che si è fatta una parte, c'è, 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 Silvio Berlusconi l'ha fatto nascere lui il nuovo governo, se nasce, si presume che nasca il nuovo governo, perché Mattarella si è stufato, eh, se non nasce il governo Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Luigi Mattarella manda tutto a quel paese, eh, fa le nuove elezioni, eh, e con le nuove elezioni mica si sa come va a finire, eh, se tanti cantano vittoria, mica si sa come va a finire, eh, perché il popolo sovrano va presto a cambiare orientamento, ma insomma, eh, Silvio Berlusconi è di nuovo vincitore, c'è, c'è, c'è sua figlia Marina, Marina, Marina che ha detto, eh, papà, tu hai fatto male a tirarti dietro, ti hai fatto male, dovevi resistere, ma resistere a chi? Resistere a che? Marina, resistere a che? Il tuo papà ha fatto bene, il tuo papà ha fatto la mossa, la mossa vincente, tanto è vero che, cara Marina, questa mossa di Silvio Berlusconi ha fatto uscire di senno Marco Travaglio, che è uno che se ne intende, Marco Travaglio è uno che se ne intende, quasi come me, quasi come Serafino Massoni, eh, non è mica facile avvicinarsi alle capacità comprensive di un Serafino Massoni, e allora adesso vediamo se nasce questo governo, che nasce con l'appoggio, con l'appoggio, nasce con il benepracito del Silvio Berlusconi, che sia chiaro, lui se tirate un dietro, dice che Forza Italia farà una nega la fiducia, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, nasce per volontà di Silvio Berlusconi il nuovo governo, se nasce, io penso che nasca il nuovo governo dei vincitori, i cosiddetti vincitori, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, ma nasce con la benedizione di Silvio Berlusconi, capito, Marina, e tuo papà è stato molto abile stato, altro che, tu non lo devi criticare il papà per la mossa che ha fatto, tu gli devi dire bravo papà, hai fatto la mossa giusta, adesso vediamo un po', allora, se nasce questo governo, e deve nascere per forza, perché se no si torna alle elezioni, perché Mattarella si rompe, eh, chiaro, il Quirinale si rompe, allora, la legge Fornero? Alla legge Fornero? Cari ragazzi, non mi fate ridere, non mi fate ridere, io sono tanto vecchio, se rido troppo potrebbe venirmi un coso, non dico un ictus, potrebbe venirmi un colpo al cuore, cari, allora, la legge Fornero? Sì, sì, si può cambiare la legge Fornero, si possono cambiare le parole, si può dare un altro titolo, invece di chiamarla legge Fornero, che so, la chiameremo legge Salvini, legge di Maio, ma la sostanza non cambia, se i progressi della scienza e della tecnica, cioè della medicina, ci fanno campare fino a 90 anni, e non è che tu puoi andare in pensione a 50 o 60 anni, si deve lavorare di più, si deve lavorare di più, quindi, sì, e si elimina la legge Fornero, è certo che si elimina, non si chiamerà più legge Fornero, si farà un'altra legge, che dirà le stesse cose, e ci avrà un altro nome, si chiamerà legge di Maio, che so, legge Salvini, il popolo sofrano, alla fine, viene sempre portato a Sodoma e Gomorra, sapete le famose città bibliche di Sodoma e Gomorra, sapete cosa succedeva a Sodoma? La legge Fornero, capito? La legge Fornero, eliminiamo la legge Fornero, e come la mettiamo con Tito Boeri? Tito Boeri non è mica l'ultimo arrivato, è il presidente dell'Inps, è il presidente dell'Inps, Tito Boeri, le dice le cose chiaro e tondo, e Tito Boeri è quello che ha detto che se non ci fossero i migranti, cioè i lavoratori neri, i neri, i neri, non ci sarebbero neanche i soldi per pagare le pensioni, capito? E agli italiani. La legge Fornero? Sì, si cambia il titolo, la legge Fornero, si fa un'altra legge con un nome diverso, legge Di Maio, legge Salvini, ma che dice le stesse cose, dice, va bene? E la, come si chiama, l'indennità di cittadinanza? Non mi venga a ridere, cari amici, verrà anacquata, verrà anacquata, e quando sarà anacquata l'indennità di cittadinanza ci sarà l'insurrezione del centro-sud. Beh, insomma, Marco Travaglio è stato molto bravo a vederla, la faccenda, Marco Travaglio è stato bravo quasi come Serafino Massoni, bravo Marco Travaglio, ti faccio i complimenti, sei stato molto bravo, io ho letto quello che hai scritto tu Marco Travaglio, sei stato molto bravo, e invece no, Marina, Marina ha sbagliato, cara Marina, tuo papà è stato molto abile, molto, molto abile, quella di papà è stata una ritirata strategica, poi è ritirata per modo di dire, perché se nasce questo governo, e deve nascere per forza ormai, sennò Mattarella si incazza, nasce con la benedizione del tuo papà, capito Marina? Va bene Marina, va bene, impara anche tu a conoscermi Marina, vedi cara, io sono questo qua Marina, vedi Marina, questa è la mia storia della filosofia, ti piace la filosofia Marina? Bene, a te Marina, a Marco Travaglio, e a tutti voi cari amici, tanti cari saluti da Serafino Massoni.